Ciao a tutti da Alex Barberis Bene, siamo arrivati alla quinta edizione di 100% batteristi La manifestazione musicale, o meglio, la manifestazione per batteristi e percussionisti ideata da Alessandro Spaziani, batterista di Sora appunto nella città di Sora L'intento di questa manifestazione da 5 anni è quello di far partecipare il più possibile batteristi e percussionisti di tutta Italia e suonare insieme, in sinergia L'idea è fantastica e anche la resa La resa è meravigliosa perché Alessandro Spaziani è un grande batterista ma anche un grande organizzatore e quindi la manifestazione riesce ogni anno al 100% come il nome che porta La cosa bella di questa manifestazione è che oltre la performance che è principale, che è quella appunto di far suonare i 100 batteristi ma anche di più insieme è che già dal pomeriggio partono varie performance in sostanza di batteristi, percussionisti, professionisti e di gruppi di percussioni itineranti un po' per tutta la città e questo è fantastico perché comunque diventa veramente esora per un giorno la città dei batteristi e percussionisti che dirvi mancare è veramente un peccato per chi ama questo strumento questi strumenti di percussioni sia come professionisti come semplici appassionati ma anche come ascoltatori è assolutamente da non perdere perché ogni anno è sempre un anno diverso e anche migliore vi invito tutti a venire a partecipare l'ingresso è gratuito ovviamente perché è una vera manifestazione sincera e pura e questo ha fatto sì che insomma che io vi partecipassi perché comunque amo la sincerità in tutto e quindi soprattutto nella musica bene questa manifestazione è sincera al cento per cento vi rimando al 30 giugno che è il giorno della manifestazione di 100% batteristi e niente ci vediamo la spero di incontrarvi e di scambiare sinergia nel suonare insieme ma comunque nel passare una giornata bella, felice, serena, pura un abbraccio forte e ci vediamo il 30 giugno a Sora, provincia di Frosinone ciao ciao